ciao stai ascoltando italian time zone il podcast che ti aiuta a migliorare il tuo italiano con la storia sono giulia e ti accompagno in questo viaggio meraviglioso ricco di storia curiosità e memoria alla scoperta in questa stagione del post unità d'italia dal 1861 in poi in questo episodio andiamo a capire che cos'è la destra storica allora la destra storica governa l'italia unita dal 1861 al 1876 e come abbiamo visto nell'episodio precedente dedicato alla piemontesizzazione si trova davanti ad un paese frammentato dal punto di vista economico e sociale le sfide quindi i problemi da affrontare sono tante tra cui quattro principali numero uno la questione istituzionale cioè l'unificazione amministrativa ed economica delle regioni italiane numero due le questioni la questione veneta e la questione romana quindi diciamo la conquista dei territori ancora in mano all'austria e al papato quindi l'unificazione territoriale numero tre la questione finanziaria il pareggio di bilancio statale in gravissimo deficit in perdita fondamentalmente e numero quattro la questione meridionale cioè la lotta al brigantaggio nelle regioni meridionali e tutti quei problemi legati alle differenze tra nord e sud italia entreremo nel dettaglio delle politiche socio economiche della destra storica nel prossimo episodio in questo episodio è importante capire cosa significa destra storica quali erano i loro ideali e chi sono stati i protagonisti principali innanzitutto bisogna sottolineare che l'aggettivo storica viene aggiunto successivamente per marcare il ruolo fondamentale assunto dai politici di questo schieramento in questa prima fase del regno d'italia e per segnalare anche la distanza con i successivi governi il nome dato a questa formazione è riconducibile molto semplicemente al posizionamento assunto dai suoi esponenti all'interno del parlamento per questo dobbiamo distinguere dalla destra di oggi ok per questo viene chiamata destra storica questa formazione politica che quindi sedeva alla destra sedeva a destra all'interno del parlamento è ispirata da valori moderati e liberali si tratta di una classe di governo preparata con un alto senso dello stato e della laicità e caratterizzata da competenza amministrativa e interesse pubblico gli esponenti della destra storica cioè le persone che formano la destra storica sono in prevalenza uomini provenienti dalle regioni dell'italia centro settentrionale ok molti di loro sono ricchi proprietari terrieri e numerosi hanno anche un'origine nobiliare per questo rappresentano molto gli interessi della ricca borghesia e della dell'aristocrazia prevalentemente agraria e delle professioni liberali ok quindi questo è fondamentale infine bisogna dire che sono persone fedeli alla monarchia conservatori sul piano sociale e perseguono cioè ricercano seguono un progresso moderato ossia quindi guidato da un'elite illuminata e non dalla rivoluzione ok quindi sono distanti dall'agire di mazzini e dalla sua azione rivoluzionaria ti ricordo che se vuoi conoscere meglio invece il pensiero di mazzini per fare un confronto con queste persone puoi entrare nel percorso dedicato al risorgimento o puoi acquistare solamente il workbook dedicato a mazzini sul mio sito italiantimezone.com cosa volevano queste persone questi esponenti della destra storica per quanto riguardava la politica estera queste persone vogliono assicurare all'europa che il nuovo regno garantirà stabilità dell'equilibrio internazionale e in politica interna beh in politica interna devono affrontare innanzitutto il tema dell'unità quindi contro ogni tendenza centrifuga cioè contro ogni tendenza che voleva l'opposto che voleva cioè la divisione cioè l'allontanamento dal centro per questo una tendenza centrifuga il clero legato al papato i gruppi nostalgici borbonici del sud che ci sono ancora oggi immaginatevi appena appena dopo l'unità le rivolte contadine i gruppi mazziniani le forze garibaldine che premono per un'azione armata per il veneto e roma insomma diciamo che sicuramente io non avrei voluto trovarmi nei loro panni ecco cioè al loro posto vediamo ora alcuni nomi per capire chi erano questi protagonisti quindi chi erano i principali protagonisti della destra storica e perché no provare a ritrovarli nei nomi delle vie quando camminerete per le strade italiane o esplorerete la vostra città preferita su una mappa virtuale sì perché molti di questi nomi si trovano nei nomi delle vie nei nomi delle piazze quindi nella toponomastica della città ma anche nei nomi delle scuole pubbliche ok quindi cercateli quando andate in giro per l'italia oppure mettetevi ad esplorare appunto la vostra città preferita su google maps dicevamo vediamo quali sono i nomi più significativi i nomi più importanti allora abbiamo innanzitutto quintino sella industriale biellese quindi di biella del piemonte il primo ministro delle finanze del regno d'italia che promuoverà la pesantissima tassa sul macinato anche un grande alpinista tra i fondatori del CAE il club alpino italiano questo è un personaggio veramente interessante e vi consiglio di approfondire la sua figura con un bellissimo podcast del professore alessandro barbero che si intitola molto semplicemente quintino sella barbero ovviamente spiega la figura di questo personaggio da diversi punti di vista ed è una narrazione molto molto avvincente quindi quindi ve lo ve lo consiglio proprio per conoscere meglio questo personaggio poi abbiamo Bettino Ricasoli toscano primo presidente dell'italia unita dopo cavour quindi cavour purtroppo morirà appena dopo l'unità d'italia quindi Bettino Ricasoli sarà il primo presidente dopo cavour nel 61 62 poi abbiamo luigi carlo farini che promosse l'annessione dell'emilia al regno sabaudo quindi ancora prima dell'unità nel 1859 e poi fu ministro dell'interno nel 60 e primo ministro dopo Ricasoli poi abbiamo Marco Minghetti emiliano che tra le altre cose fu ministro delle finanze e raggiunse il pareggio di bilancio negli anni 70 alfonso la marmora o il generale la marmora che forse avete già sentito lui fu generale piemontese già attivo nella prima guerra di indipendenza poi nella guerra di crimea del 55 56 ovviamente sempre 1800 comandò anche il dipartimento di napoli con poteri civili e militari e infatti fu in prima linea nella lotta contro il brigantaggio e spesso il suo nome viene associato al brigantaggio ma il suo nome viene anche associato alla terza guerra di indipendenza e alla battaglia di custozza siamo sempre negli anni 60 del 1800 parleremo ovviamente della terza guerra di indipendenza quando andremo ad affrontare la questione veneta poi abbiamo Emilio Visconti Venosta Lombardo ministro degli esteri che affrontò i gravi problemi politico diplomatici connessi alla liberazione di Roma e operò sul piano internazionale per l'avvicinamento dell'italia agli imperi centrali poi abbiamo Giovanni Lanza piemontese presidente del consiglio verso la fine già degli anni 60 proseguì la riduzione delle spese militari in un regime di stretta economia evitando tra le altre cose l'intervento in favore della Francia allora in guerra con la Prussia ho voluto citare questo personaggio anche perché a Milano c'è una fermata della metropolitana che si chiama Lanza e sfido la maggior parte dei milanesi a conoscere il perché di questo di questo nome e infine un ultimo nome che volevo citare è Silvio Spaventa abruzzese quindi una persona del centro sud Italia e che divenne già famoso per la sua attività antiborbonica infatti fu addirittura condannato a morte poi questa appena fu trasformata in esilio perpetuo dal regno delle due Sicilie dopo l'unità d'Italia fu deputato consigliere di stato e ministro dei lavori pubblici si ispirò molto a Hegel e lui vide nello stato diciamo l'organo supremo destinato a impersonare la coscienza direttiva della nazione questo concetto questo pensiero può essere un po' difficile ma ci fa comunque capire come questo personaggio ma non solo tutte queste persone avessero un fortissimo fortissimo senso dello stato queste persone e anche e molte altre hanno tra le mani le sorti della prima Italia unita oltre a completare l'unificazione politica questa classe politica deve anche provvedere all'unificazione di economie che erano state separate per secoli e alle sfide poste anche dall'aumento della pressione demografica cioè dall'aumento della popolazione e anche dallo stato di arretratezza economica e civile nel quale versava la penisola cioè nel quale si trovava l'Italia soprattutto nei confronti di un'Europa centrale di un'Europa settentrionale che facevano passi da gigante sulla via della modernizzazione bene nel prossimo episodio andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le politiche socio-economiche dei primissimi anni del regno in questo episodio abbiamo visto abbiamo capito cosa significa destra storica quali sono i valori su cui si fondava e da chi era guidata ti invito a riascoltare questo episodio e a prendere nota dei nomi di questi personaggi perché comunque li ritroveremo in altri episodi e appunto per la tua esplorazione nelle città italiane intanto ti ringrazio tantissimo per essere qui se questo episodio ti è piaciuto lascia un like o un commento sul mio sito italiantimezone.com o sulla tua piattaforma preferita dove ascolti il mio podcast e ci sentiamo nel prossimo episodio ciao